buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a fortnite ricordo che se volete supportare il canale qui trovate il mio codice creatore che dovete inserire ogni due settimane nello shop giornaliero e vi ricordo inoltre che se mi seguite su instagram trovate il link qua sotto e qui su youtube attivando la campanellina metto in paglio tutte le settimane oggetti decorativi che arrivano direttamente dai codici che troviamo nei fumetti di batman.zero collaborazione con panini comics quindi se volete vincere Harley Quinn o uno degli vari oggetti appunto che si posso riscattare dei fumetti vi consiglio di seguirmi sia qui che su instagram partiamo col video di oggi che si riguarda l'incarico epico distruggi bar che io ho scelto scogliere scoscese perché qua su bagno asciuga ne troviamo un sacco tipo qua ce ne sono già due ne servono tre per completare questo incarico epico di questa settimana siamo due di tre e il terzo ecco la terza è l'acqua se non ci rompo le scatole i dischi volanti questo è il sasso ok incarico completato fase 23 di questa settimana e abbiamo distrutto le nostre tre barche che ci hanno dato in 30k di punti esperienza che ci servono per livellare questo palco a taglia ma non ne ha rubato la macchina vediamo se ce n'è un'altra ok per ragazzi per questo video tutto noi ci vediamo al prossimo mi raccomando un bel like e ciao